buongiorno amici volevo fare questo breve video perché io ho circa due anni un po meno di due anni coperto questo canale e youtube prima lo conoscevo ma ovviamente lo conoscevo solamente da utente come molti di voi no guardavo video degli altri canali e non stavo attento a tanti youtuber ne seguivo qualcuno ma insomma non più di 34 ok poi ero più distratto adesso da quando mi sono messo a fare questi video adesso sono un po meno di due anni ovviamente uno cosa fa si si preoccupa anche di guardarsi intorno poi io per fare anche i miei video attingo da altre fonti di altri youtuber youtuber che magari fanno dei contenuti interessanti youtuber che fanno dei contenuti anche di merda ma che ogni tanto ne fanno uno interessante perché come dico sempre non esiste il genio puro e non esiste il cazzone puro cioè c'è uno youtuber che può fare 50 video di merda e il 51esimo avere una botta di genio come c'è lo youtuber che può fare 50 video bellissimi e farne uno che spara delle puttanate terribili ecco e comunque ultimamente mi sta capitando di vedere non faccio dei nomi perché non mi piace poi non voglio neanche così metterli in imbarazzo anche perché hanno preso la loro legittima scelta e mi sta mi stanno capitando di vedere degli youtuber di media piccola fascia media piccola fascia vuol dire più o meno gli iscritti che ho io cioè dai mille fino arrivare ai 5000 6000 ok e che fanno dei video lagnusi no nel senso magari fanno dei video buoni ok e da molti di loro ho attinto anche degli spunti importanti per fare dei video io ma poi ne fanno uno definitivo li chiamo così in cui dicono basta io chiudo con youtube perché youtube è diventato una merda perché sta società fa schifo perché ormai tutti ci basiamo solo più sulle visualizzazioni tutto diventato un marketing tutto un bla 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 o cosa ma io dico solo una cosa ma se tu hai dai mille ai 5000 iscritti quante cazzo di visualizzazioni vuoi fare cioè non è che ne fai dei milioni di visualizzazioni e quindi quanti cazzo di soldi vuoi guadagnare con facendo questi video ti porti a casa se va bene i soldi di una pizza al mese ok quindi dove voglio arrivare qua non nel fare il mercenario perché io sono il primo che non faccio il mercenario io non ce l'ho neanche monetizzato il canale per cui praticamente sono qui gratis cioè voi mi seguite qui gratis in tutto ma voglio arrivare al punto che se tu sei uno youtuber di media piccola fascia e anche hai il canale monetizzato tu praticamente hai fatto dei video per uno due ci sono anche alcuni di questi canali che hanno fatto dei video per cinque anni per un piatto di fagioli sostanzialmente ok non di certo per quello l'hai fatto l'hai fatto perché era anche un piacere tuo fare questi video benissimo se è un piacere tuo fare questi video e non li fai solamente per le 10 euro 20 quante cazzo siano al mese che tiri su da youtube ma che cazzo te ne frega di andare a vedere che youtube è diventato uno schifo che questa società sta andando a puttane che ormai siamo tutti un usa e getta lo dico anche io nei miei video nei miei video di impronta sociologica psicologica che faccio lo dico anche io che stiamo diventando una società di malati ma non è che perché stiamo diventando una società di malati io adesso domani piglio apro un video qua e dico vabbè sapete che c'è qua youtube si sta riempendo di cazzoni che poi non è vero perché se guardi bene è pieno anche di gente che ha dei buoni canali e ovviamente ci vuole pazienza nel trovarli ma ha dei buonissimi contenuti comunque faccio un video sapete che c'è youtube si sta riempendo di cazzoni il mondo sta andando a puttane l'inquinamento sta andando alle stelle tra un po ci estingueremo tutti allora basta chiudo il canale e vaffanculo ma il fatto è che ho deciso di fare questo video perché all'inizio io vedevo degli youtuber un po clown io li chiamo così non faccio nomi però ci sono degli youtuber che come c'è su facebook avete l'amico che scrive sempre basta me ne vado chiudo chiudo il profilo e poi non lo chiude perché vuole solamente attirare l'attenzione ci sono qua degli youtuber che un po come clickbait un po come scenografia un po per fare proprio i clown dicono a chiudo me ne vado e poi la settimana dopo fanno un nuovo video e vabbè quelli hanno il loro modo di agire così non lo condivido per niente però amen sei stai facendo del circo invece che fare un canale serio hai deciso tu così ma questi qui di cui sto parlando adesso questi ultimi che ho visto hanno chiuso veramente il canale cioè hanno fatto veramente le vedove risentite e hanno chiuso proprio la saracinesca del canale ma allora il tuo canale si basava i video che tu facevi si basavano sul fatto che il mondo fosse più o meno bello che youtube fosse più o meno bello ma preoccupati di quello che dici tu nel tuo canale se se io faccio dei buoni contenuti e io ho la presunzione di pensare al netto che a volte anche io sono un essere umano e posso dire delle inesettezze delle cagate ma io ho la presunzione di pensare che faccio dei buoni video che cazzo me ne frega se ci sono ed è vero oggigiorno nel 2023 rispetto a che cazzo ne so al 2013 un sacco di canali che sparano delle troiate cosa me ne frega di andare a vedere l'orto degli altri e questo che non riesco capire e ultimamente ho visto dei canali buonissimi con dei ragazzi molto intelligenti ragazzi e ragazze uomini e donne molto intelligenti che facevano dei contenuti molto profondi sia a livello psicologico che spirituale che è di vario contenuto di crescita personale che poi mi fanno queste scenate da scolaretta isterica di 15 anni e chiudono il canale boh cazzi loro però mi sembra veramente mi sembra mi dispiace dirlo un un epilogo triste di un'immaturità che viene fuori da altri dopo altri 100 video in cui tu hai voluto insegnare alle persone come vivere ad emanciparsi a crescere personalmente e poi veramente alla fine ti comporti come una persona di 15 anni frignando e alzando il dito dicendo non di 15 anni peggio ancora di 6 7 anni alzando il dito maestra mi ha detto che che sono brutto maestra maestra cioè ti comporti come un bambino come una bambina boh ditemene voi cosa ne pensate ovviamente io l'ho scritto pure nella descrizione di questo mio di questo mio canale io fino a quando vivrò cioè per 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 avere se visto sul cazzo per avere la soddisfazione di non vedermi qua su youtube dovrete aspettare che io muoia ciao